Oggi quello dell'avvocato è un lavoro come un altro, sottopagato e decisamente inflazionato. Ma lei viene in tribunale con la busta del pesce? Questa è la spesa per il professor Bellastella, io sono il suo praticante. Abbiamo detto 47 esaminanti? Noi abbiamo la responsabilità di insegnare loro il ruolo livellatore dell'università. Lascio! Ma questo ragazzo lo paghiamo come cuoco o come praticante? Io in tre anni la faccio diventare il più grande penalista italiano, se lo ricordi. Io mi sposo la sua amica e lei mi fa il contratto. Sposo, parolona, non è propriamente una studentessa. L'avevo intuito. Per fare l'avvocato a quei livelli ci vuole un certo velo sullo stomaco, papà. Lei ha bisogno di visibilità mediatica, qualcosa di impattante. E che glielo organizziamo noi le posizioni? Allora non ha capito niente lei. Qui ha anche un ambiente cinico. Molto cinico. Lei ha iscritto alla massoneria? Lei è dei nostri. No. No. Buonanotte devi dormire, non devi cantare. Hai capito? Che te che sta al festival di Sanremo? Ma che vuoi? Hai rotto il calcio? Ma che vuoi? Professore, ma che fa? Tecniche di mimesi per entrare nel territorio, non si preoccupi. Ha, 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 ha.